Sulla strada provinciale 430 Cilentana, all'altezza dell'uscita di Vallo della Lucania, risiede intorno alle 21 una Mercedes che si sarebbe incendiata. Improvvisamente l'auto è stata avvolta dalle pianne. L'autista è riuscito ad abbandonare l'abitacolo dell'auto in tempo per non rimanere coinvolto nell'incendio. Il serbatoio dell'auto è esploso poco dopo, generando un principio di incendio che ha rischiato di coinvolgere strutture vicine, come un oliveto ed un distributore di benzina, a poca distanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vallo della Lucania, che hanno bloccato il traffico e i vigili del fuoco.